Partecipiamo al presidio che si è deciso di fare con la grande assemblea fatta ieri sera dalla parte dei cittadini, sostenendo le nostre posizioni che sono state chiare e forti e hanno inciso molto sulla decisione presa ieri a Firenze che ha unificato la Toscana sulle posizioni di Pisa. Io sto studiando eventuali azioni anche di carattere legale perché la non collaborazione tra governo e istituzioni locali e regione in questa fase ha anche questi profili cioè espone il governo a qualcosa che può essere impugnato e se sarà necessario impugneremo. La novità più importante sta in quanto ha detto il sottosegretario all'interno da Vico in colloquio con me ad una radio, appunto radio, quando ha detto che il governo accetterà le proposte delle regioni. Se questo è vero, io ho detto, oggi pomeriggio la regione presenterà una proposta, una disponibilità di pari contenuto, di pari portata rispetto a quella prevista con questa decisione di imperio sbagliata, gravemente sbagliata, che è l'indicazione di Cortano. Lui ha detto che sono indiscrezioni di stampa, ne dicono tante. Se è così, io avrei visto bene una smentita nella giornata di ieri, ma se c'è nella giornata di oggi va bene lo stesso. Quindi noi prendiamo atto delle dichiarazioni del sottosegretario da Vico in modo positivo, naturalmente, e speriamo ci sia coerenza nella riunione di oggi alle 17 a Roma. Rossi è in viaggio ed è già avvisato anche di questo fatto nuovo. Il prefetto si è spinto anche a precisare che saranno 500 clandestini, non profughi, e che la comunicazione ufficiale è arrivata, che bisogna arrestire subito le tendopoli. Io spero che sia fatta proprio una retromarcia di 180 gradi, che valgono appunto le dichiarazioni di da Vico e il fatto che siano clandestini, non profughi, legittima tutte le già legittime perplessità sul rischio che quest'operazione non abbia niente a che vedere con l'emergenza umanitaria, ma sia la precostituzione di un centro permanente, non temporaneo, di accoglienza e identificazione di cittadini estracomunitari che non hanno permesso di soggiorno, che sono detti comunemente clandestini. È tutta un'altra cosa, è una cosa inaccettabile, anche in questo caso la Regione Toscana ha fatto ben altre proposte con cui Coltano non entra assolutamente niente e non deve entrare assolutamente niente. Quali sono le caratteristiche della struttura che ha proposto la Regione al Governo? Sono strutture già esistenti, fatte in muratura, non prevedono accampamenti, tendopoli e sono strutture già sperimentate per affrontare via via altre emergenze che nella scala locale si sono verificate. Quindi questo delinea una offerta molto diversa da quella che consisterebbe in questa struttura che ha caratteristiche militari, tutto ciò che la Toscana non vuole. I numeri sono quelli confermati, 500 profughi? I numeri sono quelli che ci hanno detto e che si è saputo, ma un numero ufficiale non ci è mai stato dato. Anche ieri il prefetto Padoin ha detto di dimensioni, non ha potuto dire un numero preciso. Il timore però è che i numeri siano stati ridotti per far passare una scelta che noi contestiamo e poi il rischio è che i numeri siano in realtà molto più grandi una volta che si è aperta la breccia. Noi quella breccia la vogliamo chiudere. Antonio Della Modarme, qui c'è già un presidio dei residenti di Coltano, che cosa sta succedendo? La popolazione di Coltano, come è successo ieri sera in un'assemblea indetta in 448, ha dichiarato che la disponibilità nel senso della solidarietà, come ha detto Rossi. Però questo non vuol dire che qui in Coltano, perché c'è una caserma di smessa, insomma quello che è, si debba pensare, come ha fatto il governo con un atto di imperio, di metterci i profughi. Questa è una cosa veramente fuori da ogni logica e per cui gli abitanti di Coltano e di tutti questi quartieri si stanno mobilitando per dire no a quest'atto di imperio. A un ministro, lo vorrei ribadire, che dice di essere federalista e queste cose qui non sono da federalista, sono da fascisti.